Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale Allora, cosa è successo sabato? Abbiamo fatto la gara Che gara era? Era la gara di federazione regionale gold Allieve? Gold Tu sei allieva? Uno, io allieva due L'Anelli è il più piccolo di me di un anno È del 2010-2009 Quindi lei faceva la gara con altri bambini Esatto, non eravate nella stessa categoria Sì E infatti lei era allieva uno e tu allieva due Come vi siete classificate? Io prima Eh, io settima Settima Qual è stato il primo attrezzo che avete fatto? Trave 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 Com'è andata? Bene Posso guardare? Una alla volta Allora, a me è molto bene Però non mi hanno riconosciuto lo giamme cambio Però non so calda Io sono andata a soldare a ruota perché ho passato così le gambe Hai tagliato Si è tagliato E ho riuscito a risparmiare all'arrivo Però adesso non ho vinto Ok, quindi hai fatto una caduta Però sei migliorata rispetto alla prima prova? Sì Avevo fatto tutte le cadute alla prima prova E sono arrivata a terra Cadere dalla trave ti ha caricata ancora di più tipo Adesso devo far tutto benissimo O ti ha demoralizzato un po'? Seconda Un po' tutte e due Tutte e due Però dopo hai dato il massimo A presto Dopo trave cosa avete fatto? Corvo libero. E quello è andato bene a tutte e due? Sì. No. Cioè sì. Una alla volta. Latiana ha detto che è stato l'attrezzo migliore che l'ho fatta. Anche a me, un secondo migliore però... Mi sono scordata un elemento che l'ho fatta alla fine e però sono arrivata prima con la musica. Però la resta molto bene. Dopo corpo libero abbiamo fatto? Volteggio. E com'è andata? Benissimo! Però il flick e la ribaltata le dovevo fare un periodo più comunque. Ok. Hai fatto flick, ribaltata e rondata? Poi dopo volteggio? Parallele. Parallele? Come è andata? E la verticale aperta? Non l'ho finita. La verticale chiuda? Sì. E resta molto bene. Come è andata? Come è andata? Come è andata? No. Come è andata? Ok. Voi come è andata? Come è andata? Come è andata? Ho vinto la coppa da medaglia Facciate un po' vedere Super champion Facci vedere cosa c'è scritto in questa coppa Non c'è scritto qua Aspetta Come ti sei sentita Quando ti hanno chiamato prima Bene poi Fare anche un regalo ai miei genitori Perché il 9 marzo Avevamo festeggiato 19 anni da quando stanno insieme Super regalo